Nel pieno della fase acuta dell'emergenza coronavirus, con la crescita esponenziale dei contagi, dei ricoveri e delle terapie intensive, la questione della costituzionalità non ha trovato spazio nel dibattito pubblico. Eppure, a tuttora, i cittadini si trovano privati della loro libertà in modo anomalo. I DPCM firmati dal presidente del Consiglio Conte non sono atti aventi forza di legge, eppure hanno limitato delle libertà costituzionalmente riconosciute e garantite. Il parere di Giampiero Di Plinio, professore di istituzioni di diritto pubblico dell'Università D'Annunzio. È stato un bonus per la Costituzione italiana. La parola DPCM, decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, non esiste nella Costituzione. Le fonti che il Codice Civile, articolo 2, enumera sono le leggi, i regolamenti e gli usi. Hanno usato il DPCM come fonte del diritto. Questo ha un sacco di effetti, ha anche un sacco di presupposti. Il primo è grosso, è che è privo di controlli costituzionali. Non c'è nemmeno un controllo del Consiglio dei Ministri. Il DPCM non è preceduto nemmeno da una delibera del Consiglio dei Ministri. Il DPCM non è stato disciplinato, se non che da un atto importantissimo, una legge di rilievo costituzionale che era la legge 400 dell'88, che fu voluta per introdurre una disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Se voi andate a prendere quella legge, vedete quali attribuzioni quella legge attribuisce al Premier in termini di materie e contenuto. Trovate nomina di una segreteria, organizzazione del regolamento interno, trovate delle forme di materia attribuite al DPCM molto limitate. Quindi l'uso del DPCM è incostituzionale. Le libertà possono essere compresse, ma devono essere compresse con atto avente forza di legge. Solo due ce ne stanno in Italia. La legge ordinaria e il decreto legge. Invece vincoli aggiuntivi e molto più penetranti sono stati introdotti con un atto amministrativo. I decreti legge finora utilizzati dal Governo, quelli sì aventi forza di legge, ma che entro 60 giorni vanno convertiti in legge dal Parlamento, non hanno toccato le libertà di qui sopra, che sono rimaste in capo ai DPCM. È successo che è saltato il sistema delle fonti del diritto. Certo c'è l'emergenza, ma l'emergenza la nostra Costituzione non la disciplina, cioè la nostra Costituzione non contiene una disciplina dello Stato di eccezione. È facile dire che Orban ha una democrazia liberale. Ce l'aveva anche prima del coronavirus. Per loro è più facile. Non hanno bisogno del coronavirus per limitare le libertà. Il dramma è che la limitazione di libertà oggi è arrivata nelle democrazie liberali come la nostra e soprattutto in questo Paese più di tutte le altre. Perché come italiano mi sento violato nel principio più importante che sta alla base della mia esistenza come cittadino? Della dignità. Le conseguenze? Difficile fare un quadro della situazione, ma in sintesi... Avremo una litigation senza limiti. Ci sarà pane e lavoro per tutti gli studi legali, le firm laws, gli avvocati, per anni probabilmente.